Dalla vetrana alla vetrana esattamente un girone dopo. La Vigortrani ritrova nel primo appuntamento agonistico del 2018 la sorpresa delle sorprese di questo campionato di eccellenza. Una realtà partita per salvarsi che invece al giro di Boa è seconda in classifica e ha mancato di un soffio il titolo d'inverno. I biancazzurri, proprio all'esordio in questa stagione, sono stati gli unici tra l'altro a battere in campionato la compagine Tarantina. Domenica prossima sognano il Bessi in trasferta. I numeri parlano chiaro, l'unica squadra che ha subito una sola sconfitta in tutto il giro d'andata è la meno battuta. Noi stiamo lavorando molto bene, abbiamo fatto veramente un bel lavoro. Stiamo recuperando qualche infortunato che nell'ultimo periodo non è riuscito a darci una mano. Quindi andiamo ad Avetrana per cercare di fare punteggio pieno e dare nuova linfa alla classifica. C'è di tutto a cominciare da un mese di gennaio intensissimo nel segmento iniziale del nuovo anno per il Trani. La lotta per la promozione in campionato, i biancazzurri sono quinti ma hanno soltanto tre punti in meno della capolista USB Tonto. E soprattutto giovedì 18, con sede ancora da definire, la finale regionale di Coppa Italia dilettanti contro il Fasano. La Vigor vuole essere protagonista su due fronti. E' chiaro, noi abbiamo la testa anche alla finale, è inutile nasconderlo, ma abbiamo la testa innanzitutto ad Avetrana. Noi abbiamo queste partite Avetrana-Casarano, finale, omnia. E' un mese di gennaio tremendo, ma probabilmente decisivo per capire le nostre ambizioni. I giocatori lo sanno, i ragazzi stanno lavorando in funzione anche di questo. Sicuramente con l'aiuto anche del nostro pubblico potremmo fare qualcosa di importante. Buone notizie intanto giungono dall'infermeria della Vigor, che nella parte conclusiva del 2017 è stata spesso parecchio affollata. Fondamentale per Massimo Pizzulli avere a disposizione più frecce nel proprio arco per giocarsela, sia in campionato che in Coppa. Abbiamo praticamente recuperato quasi tutti, tranne il cantatore che ha bisogno di qualche altra settimana. Ha avuto una piccola ricaduta, quindi dispiace, perché è il nostro capitano, è un giocatore per noi fondamentale, anche se negli ultimi due mesi e mezzo non l'abbiamo avuta a disposizione. Soprattutto nel giorno di ritorno e soprattutto in una competizione importante come la Coppa Italia, avere giocatori di esperienza penso sia anche importante. Con i giovani si può far bene, si può ottenere qualsiasi risultato, in dubbio. Però è chiaro che i nostri giovani devono continuare a crescere anche nel giorno di ritorno, perché far bene è importante, confermarsi è difficile. Grazie a tutti.